Tra Gastankovic, tutte le premesse di questa Lube Milano si sono concretizzate in campo, partita a tosta. Sì, sapevamo prima di iniziare che giochiamo contro un avversario, che lotta fino alla fine, non guarda al punteggio, gioca al suo gioco. Abbiamo visto questo soprattutto in terzo sede, il nostro vantaggio è di 6-7 punti, alla fine è stato 2-3, se non sbaglio. Però è una partita importantissima per noi, 3 punti vinti soffrendo, questa è anche una buona cosa, che la squadra riesce a reagire dopo certi momenti difficili e andiamo avanti. Sare visto in campo Stankovic una percentuale d'attacco mostruosa questa sera per te? Sì, dopo un po' di tempo finalmente ero capace di dare il mio contributo alla squadra. Oggi è stato in attacco, spero che le prossime volte saranno anche a muro che ci è mancato stasera, però è importante che adesso sto bene e posso aiutare al 100% la squadra.